Allora, buonasera, sono le 21.50 di martedì 4 giugno, io non ho niente da fare e adesso sto facendo questo bel video per farvi vedere cosa sta succedendo al vostro regalo Chissà se domani mattina è ancora acceso Sono le 7.30 che sono state in dettaglio e vediamo se il lumino è acceso E' acceso! E' a metà Il videoblog continua, sono le 14.00 e adesso vediamo a che punto è la candela E' ancora accesa Eccoci qua con un nuovo aggiornamento del lumino Sono le 17.57 perché questo è sbagliato di un'ora E adesso andiamo a vedere come sta E' ancora acceso La cera è tutta colata e arriva qua, circa E' bello caldo E adesso spengo Aggiornamento live Sono quasi 24 ore che il lumino è acceso E ora è ancora acceso Incredibile ma vero I cinesi non deludono mai Allora questo è un aggiornamento Sono le 22.48 No, le 23.48 Vediamo se il lumino è ancora acceso Lo vedete là in cima? No, non si vede un cazzo Nuovo aggiornamento E' quasi mezzanotte Tutti dormono E il lumino è ancora acceso Guardate E' ancora acceso Ma mi sa che domani mattina si spegnerà Dite addio all'ultima fiamma Addio Addio Amico Addio Noi ti dobbiamo lasciare Aggiornamento del lumino Sono le 8.30 Mi sono appena svegliato Ha la facciaccia vostra che siete a scuola Adesso andiamo a vedere come sta Purtroppo Dovete non statare Che si è spento Dovrebbe essersi Quasi colato in se stesso Amen Condizioni del lumino di Padre Pio Allora Questa griglia qua in ferro Si è scaldata talmente tanto Che ha colato la plastica E stava per implodere su se stessa Boom Boom Questa griglia qua in ferro E stava per implodere su se stessa E stava per implodere su se stessa